Vagina, va. Deve essere stata strangolata da una persona che conosceva perché non ci sono segni di resistenza. Il commissario Spiedone è l'imbroglione, perché questo commissario è un po' imbroglione, si prende i meriti dei casi risolti. Alla fine è una bambina con un sacerdote, una poliziotta, Sandy, che risolvono i casi. E questo commissario si prende sempre i meriti. Spiedone perché? Io mi chiamo Matteo Pedone. Spiedone perché questo pedone un po' mangia troppo e quindi Spiedone, poi diventerà Spiedino perché si mette a dieta, dimagrisce e diventa Spiedino. Da Spiedone, Spiedino, vi ho detto già il finale, non dovevo dirlo. Abbiamo detto in lavorazione, si gira in Puglia, in Campania, si arriverà anche in Sicilia. Certo, io oggi sono qui perché ho fatto una sorpresa all'amico mio Francesco Benigno, che fra l'altro insieme alla compagna Valentina Magazzù, sono protagonisti di un episodio, di uno splendido episodio. E quindi io gli ho fatto questa sorpresa per questo evento che faranno dei casting domani, con l'associazione culturale Meri per sempre. Quindi gli auguro in bocca al lupo e invito tante persone a partecipare, perché è nata questa realtà Palermo, bella, bella, e dico di partecipare a tutti. E quindi io vedendo questa bella città ho pensato di fare anche delle riprese proprio di un episodio qui a Palermo, con l'aiuto del nostro grande amico Francesco Benigno e dell'associazione culturale. Quindi cercherai anche attori palermitani o siciliani comunque? Specialmente siciliani, io sto cercando proprio un attore siciliano verace. Oh Matteo, stai cercando cosa? Hai avuto nel tuo episodio, uno degli episodi, il più siciliano dei siciliani, Francesco Benigno, ancora mi cerchi gli attori, che cosa vuoi dire con questo? C'hai ragione, però io ti ho arrestato a te Francesco, ti ho arrestato. Lui si chiamava Mingo Iazzo, mi ha fatto incazzare, Mingo Iazzo, mi ha fatto incazzare. Mingo Iazzo, mi ha fatto incazzare io, comunque bravissimo Francesco, però io voglio dei tuoi talenti. Vieni all'associazione culturale, lui è bravissimo, poi è uno che ha delle idee innovative, dà opportunità ai giovani, con l'associazione culturale, mi fa un po' penare pure a me! L'associazione culturale me li per sempre, ci saranno tanti volti interessanti. Vieni qua in Sicilia perché il cinema qua in Sicilia ha bisogno di registi, e quindi Matteo Pedone, Spiedone, L'Imbroglione, sarà qui a Palermo tra un paio di mesi, un paio di mesi, ma non solo nuovi talenti, anche degli attori che tu, comunque adesso farei dei casting, prenderemo degli attori. Sì, scintilla l'abbiamo detto nel TG di ieri, insieme qua alla nostra carissima. De cast sul portometrallo, scintilla nella sceneggiatura di Manuel Benigni, no? Manuel Benigni, c'è anche Valentina Magazzù nell'episodio, che poi è la conduttrice di un format proprio di Tele One, allo specchio, e quindi grazie di essere venuto, grazie di dare opportunità ai palermitani, non so, e grazie a Tele One, che ci dà sempre una mano. Abbiamo fatto questa sorpresata, si può dire sorpresata qua, a Francesco. Perché mi ha portato la sorpresetta. Certamente. Mi ha portato pure la sorpresetta. Allora, io volevo dire anche i nomi degli altri attori, Francesco Benigni, Valentina Magazzù, Maurizio Mattioli, Beppe Convertino, Gerardo Placido, Rocco Pietrantonio, Nicola Di Canosa, Celeste Binanzuoli, Tanti, Giovanni De Crescenzi, parecchi. Aggiungeremo quelli che sceglierai per le riprese che farai a Palermo. E certamente. Soprattutto magari sconosciuti con il talento. Con il talento, perché Francesco è bravo in questo, scoprire i talenti. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Però veloci, non lenti, eh, una cosa veloce, scoprile veloci, non li scoprire piano piano. Abbiamo qui l'eroe, il nostro commissario Schiedone, complimenti, facciamo la prova. Ce l'abbiamo fatta, eh!